buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech da questo scorcio un po diverso dal solito vi voglio presentare le offerte del prime day che finalmente è arrivato ma prima di questo vi chiedo di supportare il canale come potete tranquillamente iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un mi piace questo sicuramente aiuterà il canale ma se volete fare qualcosa in più vi basterà se avete visto qualcosa che vi interessa nelle offerte cliccare sui link in descrizione di prodotti che vi ho lasciato e acquistarli direttamente da lì siamo affiliati amazon e questo ci consentirà di avere una piccola percentualità da amazon e a voi costerà assolutamente zero se poi proprio volete ci volete tanto bene supportare fino in fondo il canale c'è anche il tasto grazie potete offrirci un caffè e questo ci supporterà economicamente noi potremo reinvestire quello che guadagniamo direttamente i nuovi prodotti che andremo ad acquistare per voi per poter usufruire poi di queste offerte vi ricordo che dovete essere abbonati amazon prime per poterlo fare avete qui sotto il link in descrizione sempre vi potete abbonare per 30 giorni gratuitamente non dovete tirare fuori un centesimo magari il 29esimo giorno dopo dopo aver usufruito dei vantaggi di amazon prime potete tranquillamente disdirlo in maniera totalmente gratuita detto questo io passerei direttamente a vedere le offerte del prime day partiamo subito con l'ecodot di quinta generazione modello 2022 ottime caratteristiche di tutti i prodotti che vi presentiamo la maggior parte trovate la recensione qui sul canale tutto tech partiamo da un prezzo di 59 euro 99 per poi dopo arrivare a 21 euro 99 la versione dell'ecodot di quinta generazione la troviamo anche con l'orologio a 31 euro e 99 da un prezzo iniziale di 74 e 99 scorrendo poi abbiamo questa è la vera sorpresa un'offerta davvero incredibile l'eco pop che è praticamente un prodotto nuovissimo appena uscito da 54 euro 99 a 17 euro e 99 vi ricordo che questo è un altoparlante con integrato il nostro assistente vocale che dà un'ottima qualità audio e vi consente comunque di remotare tutti i prodotti di domotica che avete in casa eco show 5 di terza generazione a 54 euro 99 anche questo un'ottima offerta se per caso volete fare anche un regalo ad un amico ad un parente questi sono i momenti giusti per poterne approfittare la grossa sorpresa di quest'anno perché dico così semplicemente perché sto utilizzando l'eco auto da parecchio tempo questo di seconda generazione devo dire che lo hanno migliorato davvero tanto e quindi eco auto di seconda generazione lo troviamo ad un prezzo di 34 euro 99 secondo me il prezzo ideale per questo prodotto passiamo poi ad un prodotto che difficilmente veniva messo in offerta ma finalmente lo hanno fatto eco show 15 schermo da 15 pollici full hd abbiamo la versione normale ma c'è anche la versione in bundle con il telecomando che dà la possibilità di remotare sia l'eco show 15 sia le fire tv stick se per caso avete perso il telecomando prezzo di questa meraviglia lo possiedo ed effettivamente dà molte informazioni ed è molto comodo trovate anche di questo la recensione qui sul canale prezzo 219 euro e 99 se poi siete degli amanti della musica e quindi dell'audio purista vi consiglio eco studio l'altoparlante che è anche questo ha il nostro assistente vocale integrato ad un prezzo di 179 euro e 99 passiamo poi all'eco che è la versione più grande degli eco dot questo infatti si chiama eco e basta se avete notato va da 99 euro e 99 a 74 euro e 99 se non vi interessa l'ultima generazione degli eco show 5 abbiamo la seconda generazione modello 2021 già migliorato in parecchi aspetti a 54 euro e 99 se lo schermo poi lo volete un po più grande abbiamo l'eco shot di seconda generazione del 2021 a 84 euro e 99 abbiamo il famoso broadlink per il nostro il nostro canale è un prodotto un po controverso perché ci ha dato un bel po di problemi nella versione precedente questo un pochettino meno lo comunque l'ho trovata ad un'offerta di un prezzo di 26 euro e 39 dopo di che abbiamo una meraviglia di casa amazon abbiamo l'eco show 10 di terza generazione vi ricordiamo che lo schermo ruota e vi può seguire anche durante le videochiamate e se per caso state seguendo delle ricette in cucina eco show 10 di terza generazione lo abbiamo a 189 euro e 99 offerta anche se con una scontistica minore la troviamo su sensibo abbiamo fatto la recensione del modello un po più datato di questo ci siamo trovati assolutamente bene è un prodotto che può andare a remotare il vostro climatizzatore di casa dandovi tutte le opzioni che avete sul telecomando del vostro climatizzatore direttamente le potete utilizzare con comandi vocali tramite la app e questo prodotto il sensibo air va a 103 euro e 55 centesimi la versione diciamo un po più base è a 78 euro e 21 centesimi non possono mancare poi le fire tv stick abbiamo la 4k a 25 euro e 99 vi ricordo che questi prodotti rendono smart qualsiasi televisore al quale voi attaccate questo prodotto abbiamo la fire tv stick tra virgolette normale 24 euro 99 passiamo poi alla 4k max 35 99 per poi arrivare fire tv cube 109 euro e 99 torniamo un attimo poi su eco show 15 già l'offerta in questo momento è davvero eccezionale se poi come vi dicevo prima volete acquistare il bundle con il telecomando che vi dà la possibilità di muovere il cursore direttamente quindi remotare alcune funzionalità di questo prodotto tipo quando accedete alla piattaforma youtube netflix amazon prime abbiamo un'offerta di 237 euro e 98 abbiamo poi la versione con la telecamera collegata alla telecamera potete richiamarlo con comando vocale e sul display comparirà ciò che vede la telecamera prezzo 244 euro e 99 anche dell'eco show 10 avete un bundle sempre con la telecamera della tapo 214 euro e 99 sempre con la possibilità di poter vedere le immagini direttamente su eco show hanno fatto un po il bundle su tutti gli eco show anche per quanto riguarda per quanto riguarda il nuovo eco show 5 di terza generazione andiamo a vedere nella parte più in basso la 79 euro 99 ve lo danno in bundle con la telecamera non può mancare poi le offerte sulle telecamere le blink ottimi telecamere abbiamo la blink outdoor quindi da esterno a 43 euro e 99 poi abbiamo la versione a tre telecamere proposta a 109 euro e 99 altra offerta davvero lettante è la telecamera più il pan tilt che non sarebbe nient'altro che la basetta che vi dà la possibilità di muovere la telecamera una volta appoggiata sul mobile di casa diventerà una telecamera che ruota a 360 gradi e può riprendere qualsiasi angolo della casa 34 euro e 99 il prezzo proposto prodotto che vi ho già fatto vedere in un video di pochi giorni fa è il ring intercom anche di questo abbiamo fatto un video questo prodotto dà la possibilità di diventare smart il citofono di casa se siete fuori casa avete la possibilità di poter interloquire con la persona che è dall'altra parte del citofono magari un corriere e potete anche dargli l'autorizzazione ad entrare momentanea insomma tutta una serie di peculiarità tecniche che secondo noi rendono questo prodotto davvero fantastico il prezzo è 47 euro e 99 ricordo che c'è qui sotto il link in descrizione anche per poter accedere alla formula dei 30 giorni gratuiti del amazon prime che vi darà la possibilità di accedere a tanti vantaggi che offre questo tipo di abbonamento ma vi ricordo che per i primi 30 giorni è totalmente gratuito e avete la possibilità in qualsiasi momento in questi 30 giorni o anche dopo di poter disdire immediatamente l'abbonamento quindi il mio consiglio è potete tranquillamente farlo cliccando sul link qui sotto in descrizione e in qualsiasi momento dopo aver usufruito delle offerte disdire le offerte che vi abbiamo presentato sono davvero vantaggiose come avete visto anche voi i prezzi sono scesi davvero in maniera vertiginosa e danno la possibilità a chiunque di poter o ampliare il proprio parco prodotti domotici in casa oppure per i neofiti entrare in questo fantastico mondo della domotica tra virgolette low cost e quindi tutti quanti noi abbiamo la possibilità di poter fare degli acquisti con dei prezzi davvero ottimi io direi che per questo video è tutto ci vediamo il prossimo ciao ragazzi